Buongiorno a tutti amici e bentornati qui su Tech Today dal vostro Emanuele. Se oggi vi proponessi uno smartphone che scatta queste foto... Beh, sicuramente voi mi direste, Emanuele, l'assa proprio perde, l'assa proprio perde perché non c'è storia. Ma se invece vi proponessi uno smartphone che scatta queste foto... E direi che la cosa si fa molto più interessante, vero? Quindi direi di non perdere tempo e partire con la recensione del Redmi Note 9T. E questa recensione la voglio far partire proprio dal fondo, ovvero analizzando il comparto fotografico che ci regala questo Redmi Note 9T. In quanto i miei colleghi recensori forse l'hanno leggermente sottovalutato. Parliamo di un comparto fotografico che si compone di tre ottiche, di cui due sensori da 2 megapixel con apertura f2.4 che svolgono unicamente funzionalità di fotografia macro e raccolta dei dati di profondità di campo. È vero, queste due ottiche forse sono lì messe tanto per far marketing, ma è l'ottica principale che ci regala le gioie del caso. Parliamo infatti di un sensore da 48 megapixel con apertura f1.79 che restituisce delle foto in condizioni ottimali di illuminazione davvero ben definite, ricche di dettagli e soprattutto dai colori super naturali. Ma devo dire che non delute neanche in condizioni di scarsa illuminazione, basta un po' giocare con le impostazioni e voilà, abbiamo comunque delle fotografie piuttosto accettabili per la fascia di prezzo cui si colloca questo Redmi Note 9T. A livello video possiamo registrare tracce fino al 4K a 30fps, ma possiamo scendere all'occorrenza a 1080p a 60 o 30fps e proprio quest'ultima risoluzione ci permette di registrare video in maniera stabilizzata digitalmente. Certo, la resa non è proprio professionale, ma parliamo comunque di uno smartphone economico. Ma la differenza di questo Redmi Note 9T, così come tutti gli altri smartphone targati Xiaomi, Redmi e poco, la fa il software. Infatti abbiamo a corredo una suite per quel che riguarda il fotoritocco, tra virgolette, che ci permette di trasformare delle banali foto di un palazzo, magari con sfondo di un cielo, in bellissime foto animate, tanto che possiamo addirittura andare a cambiare proprio il cielo e gli effetti del cielo con tanto di lampi, neve e pioggia. Una banalità, direte voi, è pure una delle feature più ricercate dai giovani, che poi secondo me è il target principale a cui si rivolge questo smartphone. Infatti il Redmi Note 9T viene offerto ad un prezzo di lancio per la versione base di 229€. A questo prezzo vi portate a casa uno smartphone davvero completo per quel che riguarda anche la connettività. Parliamo infatti di connessione 5G su entrambi gli slot, una funzione al momento unica al mondo. Personalmente non ho potuto sfruttare le potenzialità del 5G, un po' perché il mio operatore non l'offre, ma soprattutto perché dove abito io non arriva questa tecnologia, ma posso dire che nei vari speed test che ho effettuato ho ottenuto risultati ottimali, nonostante il mio operatore limiti molto la velocità in download e upload. Ma se notate bene dai vari speed test, il picco iniziale addirittura arriva a 160MB per secondo. Insomma, un vero petardo davvero veloce in navigazione, ma soprattutto ottima la ricezione in ogni ambito di utilizzo. Ma sempre a livello di connettività, beh, non possiamo recriminare nulla. Infatti abbiamo la presenza della radio FM, abbiamo la presenza della porta a infrarossi qui sul profilo superiore, abbiamo poi uno speaker di tipo stereo che in combinata appunto con la capsula auricolare ci regala un suono molto fedele all'originale, bene equilibrato per quel che riguarda le frequenze sonore, ma soprattutto con un ottimo volume, soprattutto generoso volume d'ascolto. Abbiamo poi il jack da 3,5 mm per sfruttare i vostri auricolari preferiti, abbiamo poi il Bluetooth 5.2, un GPS con aggancio dei satelliti davvero molto molto rapidi e abbiamo anche l'NFC per effettuare i pagamenti in mobilità. Oltre che naturalmente vantare la presenza di un Wi-Fi a doppia banda, anche esso si è rivelato piuttosto affidabile e soprattutto è riuscito ad agganciare il segnale dove spesso altri smartphone faticavano a farlo. ...del logo di showmetoday.it, il blog dove collaboro e scrivo articoli, recensioni, guide e quant'altro. E proprio lì ultimamente ho pubblicato una notizia relativa al mercato delle cuffiette True Wireless. Infatti per quanto ogni youtuber, ogni recensore vada a proporre sul proprio canale una... Vogliamo poi parlare della batteria? Un'unità da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 Watt. E ragazzi, qua logicamente sta al vostro utilizzo. Io personalmente posso dire che non avendo quasi mai sfruttato il Wi-Fi, beh mi son portato a casa ben 8 ore di schermo attivo. E qui ragazzi, beh, un applauso davvero a Xiaomi o meglio a Redmi per questo Note 9T. Decisamente comodo poi il sensore per impronte digitali posizionato qui sul pulsante di accensione sul lato destro dello smartphone. Questo è davvero una comodità molto più comodo del sensore tradizionale sul posteriore, oltre che al sensore integrato sul display. E devo dire che è comodo perché la posizione è davvero studiata a regola d'arte per quel che riguarda la mano destra e quindi con il pollice, ma anche con la mano sinistra lo sblocco avviene sempre in maniera ultra rapida e soprattutto affidabile 10 volte su 10. E se proprio non volete utilizzare questo perché magari avete i guanti, c'è sempre a disposizione lo sblocco con il volto, quindi il face unlock di tipo 2D, anch'esso affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il design poi non delude perché parliamo di uno smartphone che è realizzato con una scocca in policarbonato, ma devo dire con tocchi di modernità non indifferenti. A partire ad esempio dal display dove troviamo il punch hole in cui è integrata la camera selfie da 13 megapixel, anch'essa che ci restituisce ottime foto sia in modalità selfie classica che in modalità ritratto. Ma soprattutto il display è una vera sorpresa. Parliamo di un pannello da 6,53 pollici in risoluzione Full HD+, con tecnologia IPS. E qua voi direte ok classico banale display IPS e invece vi sbagliate perché innanzitutto abbiamo la certificazione Widevine di livello 1 che ci permetterà quindi la visione di contenuti in alta definizione su piattaforme streaming come Netflix e quant'altro, ma soprattutto abbiamo il supporto ai contenuti HDR e su una fascia di prezzo così bassa direi che è una cosa da non sottovalutare. Abbiamo peraltro una protezione Corning Gorilla Glass di quinta generazione e un'ottima visibilità sotto luce diretta del sole. Purtroppo tirata ad orecchie a Redmi, ma che faccio quasi sempre anche ai dispositivi Xiaomi o comunque del brand, è il fatto che sì abbiamo la certificazione Widevine di livello 1, ma purtroppo per quel che riguarda Amazon Prime Video questa viene quasi dimenticata. Ma cosa anima questo Redmi Note 9T? Sotto il cofano troviamo il processore Mediatek Dimensity 800U con processo produttivo a 7 nanometri e struttura 8-core con clock massimo a 2.4 GHz. A qui si accompagna la GPU RM Mali G57MC3 oltre che 4 GB di RAM di tipo LPDDR4X. Per quel che riguarda lo storage interno invece abbiamo 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.2 nel caso del 128 GB oppure 2.1 nel caso del 64 GB. Ma il tutto è espandibile tramite micro SD senza rinunciare alla funzionalità del dual sim e dual stand-by. E qua le performance, beh ragazzi sono davvero eccellenti. Parliamo di un dispositivo molto fluido ma soprattutto affidabile, zero rallentamenti, zero lang in ogni condizione di utilizzo. Anche quello un po' più spinto che potrebbe essere il gaming. Certo lui non nasce con questa predominante d'utilizzo ma possiamo far girare comunque Call of Duty Mobile, Real Racing, così come Asphalt e quant'altro con dettagli grafici non proprio al massimo ma con una giocabilità davvero ottimale. Il tutto peraltro è animato dal sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria MIUI 12. Qua non mi dilungo più di tanto perché l'interfaccia la conosciamo e probabilmente lui sarà uno di quei dispositivi che verrà aggiornato alla MIUI 12.5 così come alla MIUI 13. Unica nota negativa che devo segnalare è quella che una volta tirata fuori dalla confezione il nostro smartphone ci ritroveremo con delle applicazioni già preinstallate. E' vero queste possono essere disinstallate a libera scelta, tante possono essere anche mantenute perché comunque parliamo di Amazon, Ebay, Aliexpress eccetera eccetera ma a conti fatti sarebbe più giusto che sia l'utente a scegliere quale applicazioni installare sul proprio dispositivo oltre al fatto che troviamo per alcune applicazioni di sistema la presenza della pubblicità. Ma questo tutto sommato forse è uno scoglio che possiamo arginare dal momento che sul nostro blog trovate tantissime guide che vi spiegano proprio come farlo. Un elemento che dovrete tenere seriamente in considerazione in fase d'acquisto sono le dimensioni di questo Redmi Note 9T che per un peso di 199 grammi comunque giustificati da una capiente batteria da 5000 mAh si configura con dimensioni pari a 161,96 x 77,25 x 9,05 mm di spessore. Insomma come si suol dire un padellone però devo dire ben bilanciato e soprattutto con la cover in dotazione non avrete alcun problema di scivolamento anche se devo dire che anche senza cover proprio grazie a questa finitura zigrinata qui sul posteriore le dita fanno piuttosto grip sullo smartphone e quindi la presa risulta ben salda anche se l'utilizzo ad una singola mano dovete proprio avere delle pala anche al posto delle mani. Ragazzi direi di giungere alle conclusioni per questo Redmi Note 9T mi sono forse poco soffermato sull'aspetto estetico ma d'altronde qui c'è poco da dire ormai gli smartphone sono quasi tutti uguali ma devo dire che a livello di usabilità che poi è quella che ci interessa nel quotidiano questo smartphone mi è davvero molto molto piaciuto insomma un dispositivo affidabile completo a 360 gradi come non si vedeva ormai da tempo e per un prezzo lancio della versione base quindi 464 GB di 229 euro considerando connettività completa di cui il 5G beh oggettivamente è uno dei migliori smartphone che potete acquistare al momento non un best buy per carità ma senz'altro uno dei migliori e quindi vi rimando qui sotto al link per l'acquisto oltre che al link alla recensione testuale dove in quel caso effettuerò tutti gli approfondimenti del caso anche per quel che riguarda costruzione e design e detto ciò direi di salutarci e darci un nuovo appuntamento per il prossimo video e detto ciò, ciao!